Eccoci qua, qua si entra 2Fire, bellissima struttura, ci sono gli uffici, ci sono tutti gli uffici delle persone che lavorano dentro 2Fire, bellissima struttura, quindi qua è tutta la parte dell'accoglienza Qui è dove, su di qua si va dove suonava stasera, qua si va, è molto, tutto molto vivibile, qua c'è la cucina dove si usa anche per stare a chiacchierare, alcune bellissime chitarre, ci sono delle d'angelico, delle buscarino Questa è una chitarra da 40.000 dollari, va bene, lì si va allo studio, andiamoci anche da qua, i bagni sono giganti, eccoci allo studio Questo è lo studio dove girerò i video nei prossimi giorni Bellissimo, veramente bello, queste sono tutte telecamere in HD, telecomandate dalla sala regia Le luci, bellissimo fondale, bianco, qua dove si lavora ai corsi, ci sono un po' di chitarre, sempre robe belle Qua ci sono tutti gli amplificatori che dovessero servire Qua ci sono un po' di chitarre, ci sono un po' di chitarre, ci sono un po' di chitarre Questo è lo studio dove è la parte audio, questa è la parte video E dove si girano E di qua Si torna Si torna su, questa è, se pensiamo, è una struttura tra le più importanti a livello di web Educational web Su di qua si va, dove è stata allestita la sala per i party, per il concertino, la mia presentazione Qua ci sono tutti gli altri uffici La c'è il palchetto, sta preparando le luci, qui è dove il party si era fatto Bisogna vedere, bisogna vedere il bagno, perché? Io non ho mai visto un bagno in un ufficio così Incredibile Ecco, questo sono io Di là si va in una sala fotografie Altri uffici, anche qui Qui dove si occupano delle vendite, online Qua della parte foto Ci sono tutte le La parte macchine fotografiche Attrezzi, eccetera Che poi si usano anche giù I fondali E via E quindi Io fra un pochino Sono ero su questo palco Il parchetto è allestito per questa Così, per questa festa Ciao Ciao